ragazzi buonasera siamo a gambasca domani c'è la gara briefing io oggi ho fatto il giro con gente del posto non ho avuto grandi difficoltà c'è una abbastanza una forte differenza fra il primo settore e il secondo settore il primo settore molto lungo infatti abbiamo dato un tempo di un'ora e mezza mentre secondo settore abbiamo dato un'ora nel primo settore troverete appena partiti o poco insomma poco dopo la partenza il la linea la linea è lunga dura secondo me per i primi 7 8 minuti ma anche 10 12 per quelli che vanno piano la linea di enduro di quello vero non dico estrema ma insomma non è che si allunga più di troppo non ci sono grandi difficoltà sul percorso è un percorso da enduro diciamo di una volta nel secondo settore invece farete una lunghissima salita praticamente tutto è tutta salita su scogli rocce quindi il percorso è allegro alla fine del secondo settore farete il fettucciato che si trova in un castagneto un querceto non lo so insomma in mezzo agli alberi è piuttosto l'avete visto piuttosto stretto insomma anche quello molto guidato si confonde quasi con una linea l'unica cosa di cui mi raccomando è nella zona bassa quindi nella zona dei co che sono relativamente vicini l'uno all'altro uno è qui a gambasca il co2 e il co1 invece a rifreddo che paesino accanto ci sono non dico intersezioni di percorso tra il primo settore il secondo settore ma ci sono insomma delle delle punti di tangenza quindi state molto attenti alle frecce alle indicazioni dei dei marshall in particolare nel primo settore salirete da una salita e ci sarà scritto enduro test e andrete di lì al secondo settore risalirete sulla stessa salita e andate a destra per il cross test da lì superata quella diciamo difficoltà di orientamento è finito finito il problema non dovreste trovare polvere perché il terreno abbastanza umido molto ombreggiato quindi non dovrebbe asciugare e non dovreste però non è che trovare il fango l'unico punto che io personalmente che guido come una lumaca ho trovato un po insidioso è ma l'avete visto tutti alla fine della linea una discesa molto fangosa occhio perché finisce su un fosso dovete o saltarlo o copiarlo ma molto lentamente quindi o saltate o rallentate non ho direi altri altri grandi notizie da darvi vi aspettiamo domani partenza alle 9 ripeto il giro completo sono due ore e mezza quindi la gara sarà un po lunga acqua in spalla perché o camelback o borraccia perché sennò morite col caldo che ci sarà auguro a tutti una buona gita ciao